Ben trovati a voi tutti ad un nuovo appuntamento con la voce delle istituzioni. È un vero piacere avere quest'oggi in studio con noi il dottor Stefano Capelli, presidente dell'Ordine dei medici e chirurghi odontoiatri di Belluno. Ben trovato dottore? Un cordiale saluto a lei e a tutti i cittadini che vorranno seguirci in questa chiacchierata. Benissimo, partiamo dalle cose positive dottore perché le difficoltà sono sempre tante, partiamo dalle cose belle, da un corso infatti che serve per cercare di attrarre sempre più giovani verso questo settore che sappiamo soffre di carenze strutturali, l'ambito sanitario, l'ambito che lei rappresenta. Infatti ci avviciniamo alla fine dell'anno scolastico, l'istituto, il liceo Galilei Tiziano di Belluno ha portato avanti in questo tempo un particolare corso per tracciare la strada. Esatto, il corso di curvatura biomedica che è stato attivato con la collaborazione dell'Ordine e di tanti colleghi che poi si sono prestati e si prestano ad effettuare le lezioni e a seguire i ragazzi, ha raggiunto quest'anno il secondo anno, cioè abbiamo ragazzi di quarta che hanno fatto nell'attuale anno e hanno fatto l'anno precedente il primo, è un corso triannale, abbiamo attivato sempre con gli licei Galilei Tiziano anche per i ragazzi di terza di quest'anno, quindi diciamo che cerchiamo di dare la maggiore informazione possibile, non per fare una scelta così di pancia, ma il più possibile con elementi di conoscenza per indirizzare il futuro professionale di coloro che manifestano un interesse in ambito sanitario. Fra l'altro quest'anno per la prima volta è variata la modalità di accesso alla laurea magistrale in medicina e chirurgia e anche negli altri ambiti, veterinaria, professioni infermieristiche e quant'altro, però nel nostro caso è variata nel senso che i ragazzi che hanno fatto il corso e che sono del quarto o del quinto anno prima ancora di avere il diploma in mano possono accedere e tentare il test. In questo modo a fanno allenamento, b domani se fanno il percorso a tre tappe potranno scegliere la loro performance migliore per tentare di accedere ai posti che anche quest'anno sono aumentati. è in discussione in Stato-Regioni da parte che è stata presentata dal Ministero ieri o l'altro ieri, siamo quasi 21.000 posti rispetto ai 10-12.000 di qualche anno fa. Perché insomma si sono capite le difficoltà che ci sono e il bisogno soprattutto di avere professionisti. Allora occorre trovare una soluzione che sia di sistema e che non sia una pezza protempore adattando, modulando l'offerta formativa alle necessità. In questo momento occorre allargare l'offerta formativa, non può essere fatto in un unico colpo, dovrà essere fatto in modo diluito nel tempo perché stiamo parlando di una formazione nel caso del corso magistrale di medicina di 6 più 4 o 6 più 3 o 6 più 5 anche. Quindi un percorso formativo estremamente lungo, laborioso e pesante con differenza ovviamente rispetto a quello che era il percorso di formazione che posso aver fatto io, colleghi della mia età o poco prima. Per rimanere sempre comunque sul corso di curvatura biomedica, quello tenuto al liceo Galilei Tiziano, proprio i medici sono entrati in classe e quindi hanno insegnato ai ragazzi alcuni elementi. Il corso è stato, è strutturato su una base nazionale omogenea da Capopassero alla vita d'Italia, nel senso che tutti, in tutte le province dove è stato organizzato l'organizzazione è strutturata e in quel modo ci sono delle lezioni frontali in aula da parte del cardiologo, del dermatologo piuttosto che... e ci sono anche delle passaggi presso strutture sanitarie che hanno dato la propria disponibilità nei vincoli e nei limiti dati dalla normativa vigente che prevede, stiamo uscendo, siamo usciti dal Covid, i problemi di trasmissione del Covid fino a ieri e prevede anche ad esempio la copertura dei dati sensibili, ricordando che i dati sanitari sono dati almeno sensibili se non ipersensibili, cioè il top nella graduazione, nella gestione dei dati. Quindi dove è possibile e in molte situazioni, vedo anche colleghi di altri ordini, comparse sui media nazionali in questi giorni, in tante situazioni è stato il trasfusionale che è stato visitato per comprendere la filiera, in quel caso, dell'attività e dei processi che vengono gestiti in quel contesto. Ecco, questo per dare così un'infarinatura su questa progettualità che ha interessato la nostra provincia. Adesso passiamo invece ai professionisti, a chi naturalmente opera. Sono tante le attività di carattere formativo che l'ordine ha promosso, la più recente in ordine dei tempi, quella del 6 giugno, incentrata sulla salute e la vita dopo il cancro. Che cosa è emerso da questo convegno, dottore? L'incontro che è stato gestito dal collega dottor Petro, sono oncologo dell'ospedale di Feltre, è stato incentrato su un'informazione per i partecipanti sul fatto che oramai da tempo da cancro si guarisce. Per cui stiamo affrontando oggi, in ritardo se si vuole rispetto ad altri stati, ma insomma può succedere, è in discussione in Parlamento e per quello che mi risulta dovrebbe essere approvata con consenso di tutte le parti politiche, la cosiddetta oblio del riconoscimento del cancro. Nel senso che, per farmi capire, il guarito da cancro che chiede un mutuo, il guarito da cancro che vuole contrarre una assicurazione sulla vita, il guarito da cancro che deve svolgere attività di vari generi, oggi in Italia non può non dichiarare che ha avuto il cancro alla tal'epoca. Negli altri stati, giunti a definizione per il tipo di cancro specifico che il soggetto è guarito, è ritenibile guarito, cioè senza evidenza di segni di malattia e con un tempo congruo specifico per il tipo di cancro, viene dimenticato, non è necessario più che dichiari questa sua situazione ed è un altro tassello sulla crescita sociale dello Stato italiano in Italia, un adeguamento a comportamenti enormi che sono di altri stati anche e un riscontro che è un'evidenza che oggi da cancro. Ricordo che quando ero studente, l'ho detto ieri ai colleghi, si parlava in ambito ematologico che è un parallelo rispetto al cancro di competenza oncologica, si parlava all'epoca, si cominciava a parlare di cosa succede quando uno è guarito. In tutte queste situazioni anche la definizione di guarigione deve sempre tenere presente l'elemento tempo, oltre che altre tipologie di trattamento e l'eventuale insorgenza di situazioni correlate. Però oggi siamo nella contesto, nella situazione in cui possiamo dire che uno è guarito dal cancro, cosa che non era 30 anni fa, oppure non era percepita 30 anni fa. E quindi un focus proprio su questo aspetto. Dato che ha introdotto l'elemento del tempo, la porto su un altro tema, perché giugno, il mese che stiamo appunto vivendo, è anche il mese della prevenzione contro il rischio di ictus, che è la terza morte in Italia, la terza causa di morte in Italia. Fondamentale per questa realtà, per questa patologia, proprio il fattore tempo di cui parlava lei. Il fattore tempo è indispensabile per la diagnosi e l'intervento e l'esito dell'intervento. Molte situazioni possono essere corrette da un punto di vista medico, non entrano nel tecnico, altre ci sono un gruppo minore di situazioni che necessitano di intervento neurochirurgico o chirurgico vascolare. Il tempo è un elemento fondamentale. Nella rete, che parte dal punto in cui avviene l'evento e passa attraverso la rete del sistema, ancora noi qui lo chiamiamo 118, lo andremo a chiamare 112 con ogni probabilità, di contatto fra territorio e ospedale, occorre avere dei punti di repere nella rete ospedaliera per assicurare il percorso diagnostico e il conseguente trattamento terapeutico adeguato. Qui purtroppo si apre la problematica risorse umane e in questo territorio la problematica neurologie. Noi come ordine, sono reperibili anche sul nostro sito, siamo usciti con comunicati stampa al riguardo, finalizzati ovviamente e solo alla tutela della salute dell'individuo e della collettività. Un tema di cui molto si è dibattuto, insomma c'è il timore di un impoverimento comunque di quella che è la struttura locale. Allora, potranno esserci. Ci possono essere delle soluzioni temporanee, ci possono essere delle soluzioni che debbono superare un determinato elemento tempo, dall'altra parte ci devono essere soluzioni di sistema che vanno declinate nel territorio, questo non può essere lo schiocco di dita, cioè nessuno ha il coniglio da tirar fuori dal cilindro. Quello che abbiamo appena detto prima, cioè la formazione è un percorso molto lungo, ci assicurerà, si spera risorse se riusciamo ad attrarre e non solo a Belluno, ad attrarre nel Servizio Sanitario Nazionale, quindi in tutte le province d'Italia. Il problema di Belluno ha delle peculiarità, la prima delle quali è la bassa densità abitativa e la seconda delle quali è l'essere la periferia dello Stato. Ma queste aggravano, ma non sono l'unica causa. Non mancano paradossalmente i neurologi. I neurologi si sono presentati in un numero eccedente al concorso indetto da azienda zero, ma fanno delle scelte diverse perché oggi hanno delle opzioni di scelte diverse, per cui il partecipare al concorso è un primo step, il entrare in graduatorio è un secondo step, ma lo step reale è prendere servizio. Tutta questa organizzazione, la regione si sta muovendo con una velocità, con un'organizzazione che io chiamo di tipo asburgico, è residuo asburgico, perfetta, ineccepibile, però il risultato finale quando tiri sulla rete deve rimanerci qualche pesce. Senta, lei Presidente comunque ha avuto delle interlocuzioni anche col nuovo commissario dell'Ulsono Dolomiti? Certamente, e il commissario si è adoperato per trovare soluzioni, nel caso specifico anche tampone che possano appunto correggere la situazione attuale. Confidiamo da un lato nelle soluzioni di tampone utilizzati specializzanti tanto per entrare nel tecnico, dall'altro confidiamo che queste soluzioni di tampone poi trovino una declinazione strutturale, però ci vuole il famoso tempo. Senta, l'altra criticità, se vogliamo ormai rimanere su questo fronte, è anche quello proprio dei medici di base, di alcuni comuni che purtroppo rimangono sprovvisti o hanno situazioni un po' volte allenanti. Anche qui è una situazione che trova una particolare espressione in questo momento nel nostro territorio, ma che non è specifica del nostro, magari fosse solo del territorio di Beluno, ci sarebbero comunque le possibilità di risolverlo. Nell'ambito della medicina territoriale, come nell'ambito della dipendenza, quindi della rete ospedaliera, dell'igiene pubblica e quant'altro, occorre mettere sul terreno e fare diventare effettivo il termine attrattività. E qui giocano gli enti locali, gli enti locali che possono aiutare, e qui mi corre l'obbligo di ricordare la purtroppo mancata dottoressa Carraro, direttore generale dell'ULS, che si era ampiamente mossa in questo senso con gli enti locali e con anche le aziende. Si è mosso qualcosa in questo che possiamo inglobare in un termine tecnico, sono le utility, cioè quello che gli dai in più, ma occorre trovare delle soluzioni a livello di azienda, a livello regionale e a livello nazionale, che determinano, ripeto, l'attrattività. Certo, quindi il sistema anche di welfare, banalmente anche la questione degli alloggi. A partire dagli alloggi che incentivano, se per caso, per un determinato periodo, sono a prezzo controllato e ti permettono, come per i ragazzi che ho detto prima del corso, che possono fare tre volte più la prova, una volta che ci sono diplomati, questi sanitari in senso lato, possono venire, provare, vedere e trovare una risposta alle loro opzioni, alle loro valutazioni da un lato e dall'altro concorrere a risolvere il problema della carenza di profili sanitari, che ripeto è un problema di sistema. Poi dovremo qui aprire, Presidente, anche tutto il tema della telemedicina, tutta la questione della tecnologia, però non abbiamo il tempo. Volevo portarla su un altro argomento, altrimenti degli odontoiatri rischiamo di non parlare. C'è stata di recente un'iniziativa che ha portato in piazza i nostri dentisti bellunesi per prevenire il tumore alla bocca. Allora, è un'iniziativa che viene proposta da un'associazione sindacale degli odontoiatri tutti gli anni. La prevenzione della neoplasia e del cavo orale è uno degli aspetti della professione odontoiatrica e abbiamo anche fatto un corso recentemente organizzato, non citato prima, organizzato da colleghi odontoiatri nella nostra sede, in cui ad esempio è emerso che non è ritenuta importante la valutazione della dentizione in età pediatrica perché, vi rigolete, tanto cadono. Ecco, questo è un aspetto che va stressato, i bambini vanno portati dal dentista. Il dentista darà delle indicazioni di prevenzione e farà dei percorso diagnosi e eventualmente anche proporrà delle indicazioni terapeutiche, però una dentizione in età pediatrica che è andata in malo modo, le assicuro che ho visto delle immagini e non sono, ho chiesto direttamente alla collega della clinica odontoiatrica, mi ha detto guarda che non sono problemi di immigrati o basso tenore. Quindi un fattore comunque culturale. È un fattore culturale da rimuovere. Dottore, su questo purtroppo la devo fermare perché il nostro tempo si è concluso, ma avremo sicuramente modo di tornarci. Grazie a lei per le informazioni che ci ha dato, per il tempo che ci ha dedicato. Prego a lei e ringrazio tutti gli ascoltatori e a tutti quanti voi dunque una buona prosecuzione d'ascolto. Arrivederci!